a napoli presentato un test di ultima generazione per la diagnosi tumorale precoce progettato da una biologa italiana che lavora in francia svilupperà la ricerca in campagna la nostra pagina dedicata alla medicina presentato a napoli un test di ultima generazione per la diagnosi tumorale precoce progettato da una biologa italiana valeria capezzuto ha scelto l'istituto sdn di napoli la biologa cellulare molecolare patrizia peterlini brescia italiana ma docente in francia per presentare il nuovo test per la diagnosi anticipata del tumore messo a punto da lei e dalla sua equip il test i set consiste in due tappe una è l'isolamento di cellule tumorali rarissime a partire dal sangue del paziente queste cellule vengono isolate su un filtro e la seconda tappa consiste in un'analisi citopatologica quindi diagnostica che permette di dire in modo preciso senza errori se sì o no ci sono cellule tumorali nel sangue quindi parliamo di un test per pazienti ai quali già è stato diagnosticato un tumore sì e poi c'è un'applicazione anche per il futuro nei soggetti a rischio di sviluppare un tumore perché è stato pubblicato è stato questo il nostro test è stato il primo al mondo che ha mostrato poter fare diagnosi di tumore degli anni prima che il tumore sia rilevabile per imaging con le tecniche di radiologia o di ecografia l'integrazione tra il dato biologico della presenza delle cellule la presenza di questa alterazione morfologica e noi abbiamo a disposizione anche metodiche che ci fanno vedere la funzione riescono a integrare i dati fra di loro e quindi ad avere delle diagnosi più vicino a quella che per la realtà in effetti nello studio che è stato fatto con i set i pazienti sono stati operati subito grazie a questa combinazione e a praticamente due anni dopo l'operazione non hanno più segno di tumore e quindi questo è veramente una grande vittoria grazie 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 grazie